Per Giarra e amministrazione comunale è tutto pronto. L'incontro è fissato per giorno 5 maggio, ore 11 del mattino. Il terreno di gioco sarà quello della stanza del sindaco Roberto Bonaccorsi, felice di accogliere il presidente Di Martino per la partita più importante del precampionato. In realtà non c'è nessuna gara in programma, è chiaro. In campo scenderanno soltanto interlocutori aventi lo stesso obiettivo, non avversari. L'intenzione è quella di rendere un servizio a tutta la città attraverso un'opera di semiristrutturazione dello stadio casa dei Giallo Blu. Il calcio è il potere di rendere le cose migliori e merita attenzione, e su questo sono tutti d'accordo. Alla riunione sarà presente anche un ingegnere interpellato per un parere tecnico, perché anche e soprattutto di procedure si discuterà, oltre che di buoni sentimenti. La società si ritiene finora soddisfatta della collaborazione offerta dagli organi competenti. Per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla faccenda. Si chiacchiera infine riguardo alla possibilità di aprire le porte a nuovi soci. Una cordata già rese e ancora ignota si è proposta. L'assemblea del giarre calcio deciderà a breve.